L'Antonio che sta controllando la tavola. Emiliano allora questa tavola secondo me è l'ideale per oggi. Vai che ti diverti. Vai oggi sulle alghe. Oggi bagnetto in pausa a pranzo. Le onde buone erano stamattina ma io essendo al lavoro purtroppo sono arrivato adesso che l'una è passata. Pazienza, surfiamo quello che c'è anche se non c'è un cacchio. Ragazzi, I get a manetta. Incredibile. Mi ha portato un mare. La fine dell'ondina minuscola c'è. Ci accontentiamo oggi. Ah, un minimo arriva. Pensavo peggio. Pensavo molto peggio. Un po' di parentina. Deci a tornare un piccolo antbuamosiano. Apoca via di un fiore. Commesso è arrivato, 6 minuti. Ci sono entrato... ... c'è me ha il nostro corso gratuito Grazie a tutti 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 Grazie a tutti